Sai qual è il vero segreto del successo? Il segreto sta in 40 centimetri, ovvero lo spazio che ti serve per alzare il culo dalla sedia e fare delle nuove azioni e agire. Questo l'ho detto migliaia di volte, ma qui sorge un problema. Agire come? Perché le azioni sono date dalle nostre capacità, le nostre capacità sono date dalle nostre conoscenze e se non abbiamo nuove conoscenze le nostre azioni saranno esattamente uguali a quelle precedenti e se faremo quello che abbiamo sempre fatto otterremo quello che abbiamo sempre ottenuto, quindi non certo avremo un nuovo successo. Allora potremmo dire che il successo è dato dal fare delle nuove azioni, ma le nuove azioni si ottengono avendo delle nuove conoscenze. Perché le conoscenze? Perché le nuove conoscenze ti permetteranno di generare nuove esperienze, dalle nuove esperienze otterrai delle nuove capacità, delle nuove abilità. Dalle nuove abilità potrai creare dei nuovi comportamenti e quindi delle nuove azioni e quindi ottenere il successo. Questo è il processo che porta a ottenere dei nuovi risultati. Ma alla base abbiamo delle conoscenze e le conoscenze come le otteniamo? O leggendo o seguendo dei corsi o dei videocorsi online. Non a caso esiste una era che racchiude proprio tutto questo. Ma qui sorge ancora un altro problema. Perché per leggere o per guardare dei videocorsi devi avere del tempo. Ed ecco che il tempo o la mancanza di tempo diventa l'ostacolo primario tra te e il successo. E allora dobbiamo trovare un modo per poter ottenere maggiori conoscenze in minor tempo possibile. E se mi conosci sai che il mio motto per eccellenza è sempre stato la conoscenza deve essere un diritto e non un privilegio. E ancora di più i metodi per ottenere conoscenza più velocemente devono essere a disposizione di tutti. Ebbene questi metodi esistono. Sono decine di anni che esistono metodi di lettura veloce, metodi di memorizzazione. Ci sono dei metodi vecchi e dei metodi nuovi. Ci sono delle tecnologie del futuro che sono già disponibili nel presente. Ci sono delle metodologie, delle tecniche del passato che sono ancora utili oggi. E tutta questa roba viene ancora venduta in giro a migliaia di euro. Probabilmente molti di voi sono stati attirati all'interno di qualche corso o di qualche presentazione dal vivo dove ti facevano vedere come si poteva leggere velocemente o memorizzare. E poi ti chiedevano migliaia di euro per poter magari, se sei uno studente, superare gli esami più velocemente o se sei uno studioso, un ricercatore come me, per poter ottenere migliori risultati. Invece, secondo me, queste conoscenze devono essere a disposizione di tutti. Di cosa sto parlando? Delle tecniche che utilizzo personalmente da decine di anni per poter leggere quanto più materiale possibile e quindi poter trattenere maggiori informazioni, quindi fare più esperienze, quindi avere nuove capacità, eccetera, eccetera, come ti ho spiegato prima. Sono 30 anni che girano i corsi di lettura veloce. 30 anni, roba vecchia, ma quello che utilizzo io è un qualcosa di più, è qualcosa che aggiunge alle vecchie metodologie della lettura veloce, le nuove metodologie della programmazione neurolinguistica e le tecnologie del futuro per poter diventare ancora più veloci, ma non solo diventare veloci nel leggere, ma poter apprendere quante più conoscenze possibili e tenerle fissate nella propria testa vita, cosa che spesso non accade quando si studia un libro solo in funzione dell'esame. A me non serve superare un esame, a me serve ottenere delle nuove conoscenze e abilità, quindi le tecniche vanno leggermente modificate. Ed è proprio questo che ho deciso di darti. Di cosa sto parlando? Ebbene non di un semplice piccolo minicorso di qualche mezz'ora, di qualche oretta dove ti spiega qualche tecnichina per poi magari venderti qualcos'altro. No, ti sto parlando di un vero e proprio master in lettura super veloce, che ho creato appositamente per te trasferendoti le mie personali conoscenze, aggiungendole a quelle storiche, quindi a tutto ciò che il mercato ha offerto e offre ancora a migliaia di euro, aggiungendoci le mie personali conoscenze di PNL e le tecniche che ho sviluppato per ottenere dei risultati sempre maggiori. È diventato un vero e proprio master di oltre 30 moduli video, quindi non un semplice corsettino, molto più importante di quelli che pagheresti a migliaia di euro, molto più importante di quello che potresti trovare a pagamento in giro per il web. E ovviamente ho deciso di dartelo completamente gratis. Come ti ho detto, la conoscenza deve essere un diritto e non un privilegio. Ancora di più, le tecniche per ottenere maggiore conoscenza devono saperle tutti. Ed è proprio per questo che puoi trovare ora l'intero master completamente gratis, fatto di video, di dispense, di meditazioni, di software, di esercizi, di tantissimo, tantissimo materiale. È ovviamente del diploma di fine corso, ma non è questo che interessa. Quello che mi interessa personalmente è che tu che mi stai guardando, tu che vuoi davvero avere successo, tu che vuoi davvero ottenere maggiori conoscenze e creare delle nuove azioni che ti porteranno a dei nuovi risultati, che tu possa ottenere delle conoscenze affinché possa diventare più veloce nell'ottenerne ancora altre. Più riuscirai a leggere velocemente, più libri potrai leggere. Pensa soltanto a poter leggere tutti gli ebook che ci sono su Anaera, tutti i libri che ci sono su Anaera, a un terzo del tempo, a un quinto del tempo, a un decimo del tempo che ci mettevi prima. Potresti arrivare a leggere un libro intero in un giorno, ma non leggerlo così, leggerlo e apprendere ancora di più rispetto a quello che avresti appreso se lo avessi letto senza le tecniche che ti spiego in questo master. Ebbene, bando alle ciance, questo è il mio regalo, l'unica cosa che ti chiedo in cambio è un like, è una condivisione e dillo a tutti i tuoi amici. C'è finalmente un prodotto completamente gratuito che non troverai mai da nessun'altra parte. Neanche un terzo del materiale che ti viene dato in questo corso è quello che trovi in giro e che ti fanno pagare migliaia di euro. Qui trovi molto molto di più e lo trovi completamente gratis. Vai subito su onera.net, cerca lettura veloce, oppure clicca sul link che trovi qui sopra, oppure sul link che troverai alla fine di questo video, accedi subito a tutto il materiale e impara a diventare un lettore super veloce e soprattutto condividi, 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 è tutto assolutamente gratis. Grazie.